Un uomo armato ha fatto irruzione in una sala da bullying di Nan Eaton nel Warwickshire in Inghilterra prendendo con sé anche due ostaggi. Dopo tre ore l'intervento della polizia che ha prima isolato la zona, poi evacuato l'intero complesso commerciale di Bermuda Park e successivamente ha fatto irruzione liberando gli ostaggi e arrestando l'uomo che secondo le prime testimonianze sembra aver agito per motivi legati alla gelosia nei confronti di una dipendente e susseguentemente ad una lite. Aveva con sé un fucile a canne mozze, nessuno, fanno sapere dal dipartimento di polizia, è rimasto ferito.